Come ogni rivoluzione tecnologica che incide sugli esseri umani, divide la comunità in tre gruppi, quelli favorevoli al progresso tecnologico senza discussione, quelli favorevoli in gran parte alla distruzione creativa ricordata o introdotta da Schumpeter, recentemente ricordata da Draghi, e coloro i quali sono contrari per motivi etici e che nascondono dietro problemi seri la loro opposizione alle discontinuità generate dai progressi tecnologici. Io credo, almeno per quanto riguarda, mi dicono che ci sono 700 partecipanti, c'è il gruppo forse più numeroso nei quali io mi pongo, di quelli che intendono capire. E quindi non posso se non ringraziare coloro i quali oggi inizieranno un ciclo di lezioni di circa in sei volte, in sei volte, per spiegarci in che cosa consistano in modo specifico per la finanza, in che cosa consista questa rivoluzione tecnologica. Il progresso tecnologico, altra lezione storica, che non è solo la divisione tra gli esseri umani, altra notazione storica è che in genere il progresso tecnologico è inarrestabile. Il problema oggi, non sto a fare la storia delle innovazioni tecnologiche del passato, è certo quindi che queste innovazioni tecnologiche si affermeranno, è incerto il quando. E quindi, insieme alla capa che opprime la nostra attività, che sono le incertezze che stanno crescendo, si aggiunge pure l'incertezza di quando questi fenomeni e come vengono regolati, saranno oggetto della nostra intenzione, della nostra attenzione. La Consovo si deve preparare, come tutti gli altri, al trasferimento del mercato mobiliare nell'infosfera. Uso un termine che mi ha sempre incuriosito il perché, che è stato introdotto da un filosofo e non da un tecnologo. Quindi questo ci dice qualcosa, che i problemi sono un po' più ampi rispetto a quelli che probabilmente noi esamineremo. Tra le incertezze, che è un punto a me caro, vi è la natura delle cryptocurrency. Il mio illustre collega, Gensler, presidente della SEC, ha detto che non sono moneta, altri lo avevano ripetuto, ma sono prodotti finanziari. E quindi la SEC può applicare le norme esistenti, ma deve regolare le piattaforme tecnologiche. tesi che condivido perfettamente. La BRI, la Banca Europea degli Investimenti, e la Lagarde, la presidente della BCE, ha ribadito il concetto. Però la realtà è che nonostante le ripetute dichiarazioni che le cryptocurrency non sono moneta, noi sappiamo che vengono usate come tale, soprattutto come unità di conto, come servattoio di valori, cioè vengono usate perché hanno le caratteristiche tradizionali della moneta. E l'informazione di questi ultimi giorni, che negli ultimi nove mesi del 2021, sono stati aperti ai bitcoin 13 mila nuovi bancomat, di cui 70 in Italia, che si aggiungono ai 26 mila esistenti, che accettano e consegnano bitcoin, dice che poi alla fine non basta dire che è moneta, ma sono prodotti finanziari, perché poi alla fine vengono usati come tali, che è uno degli elementi di incertezza che io ho ricordato. Il programma odierna si concentra in particolare sui documenti, e quelli credo anche futuri, sui documenti in discussione presso gli organi dell'Unione Europea. Quindi lo scopo dei sei incontri è, che ho detto, al quale partecipano soprattutto gente che vuole capire, e preparare il personale della Consob a incidere nel processo decisionale europeo, cioè a esaminare i documenti europei alla luce di questa esigenza, di queste incertezze che ho sottolineate, che derivano anche dalla natura ibrida di questi nuovi strumenti finanziari virtuali. E quindi anche poi a prepararsi a gestire coscientemente le norme, quando esse verranno emanate. Io ho finito la mia presentazione, ringrazio ancora i relatori e i partecipanti e auguro a tutti buon lavoro. Benissimo, allora a questo punto prendo la parola io. Sono Alessandro Perego, il direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano e il direttore degli osservatori Digital Innovation. Intanto ringrazio il Presidente Savona di aver aperto questa sessione e esprimo come Politecnico di Milano in grande e come osservatore Digital Innovation il fatto che siamo estremamente contenti di affiancare Consob in questa iniziativa, il cui obiettivo, la cui missione, come ben ricordato dal Presidente, sono totalmente condivisibili e totalmente coerenti con la nostra visione e con la nostra missione. Peraltro ci sembra che la prospettiva con la quale si sta affrontando il tema sia quella corretta, cioè quella di non porre freni all'innovazione, ma agevolarne la corretta applicazione, la corretta interpretazione in un regime comunque regolato a beneficio e a tutela, evidentemente, degli investitori. Il tema di cui stiamo parlando è un tema importante per il Paese, è un tema importante perché su questo tema l'Italia parte già con una buona base, con molte start-up e con delle iniziative importanti in alcune filiere significative per il Paese come il food e anche con dei progetti di ecosistema molto importanti nel mondo bancario. Aggiungiamo che il tipo di impostazione che ci pare si stia dando a questo tema, cioè quello di mettersi in una logica di regime pilota, sia quello più corretto che consente quindi a molte realtà italiane di poter sperimentare, sporcarsi le mani, utilizzare queste tecnologie e quindi porsi all'avanguardia, alla frontiera dell'innovazione anche nel contesto europeo. Come osservatorio Digital Innovation, dicevo all'inizio, abbiamo una piena coerenza con l'obiettivo di questa serie di seminari e anche con le parole che in qualche modo contemplano da una parte l'attenzione all'innovazione e dall'altro la giusta prudenza, la giusta prospettiva con cui anche l'innovazione deve essere affrontata. Vi leggo due parole dalla nostra visione come osservatori perché qualificano molto bene quello che crediamo sia il futuro che abbiamo davanti a noi. Le tecnologie digitali sono una grandissima opportunità per il progresso sostenibile delle economie e della società, ma al contempo è sempre più complesso raggiungerne una conoscenza autentica e valutarne in modo serio l'impatto. Questo è un po' il tema e anche l'obiettivo, con riferimento poi specificatamente anche a questo insieme di incontri. E quindi la nostra missione condivisa è proprio quella di aumentare il capire, la conoscenza, la consapevolezza, quello che il Presidente Savona ha chiaramente richiamato. Applicato quindi al caso specifico un po' le due parole chiave che ci sembrano corrette sono capire bene i confini del problema, lo spazio di lavoro e acquisirne la corretta competenza. Lato politecnico, su questo tema ci affianchiamo perché su questo tema abbiamo competenze da portare, su tre versanti principali. Da una parte i nostri osservatori, ne abbiamo uno specifico sul blockchain e distributed ledger che è quello che più degli altri si affianca in questa iniziativa, ma ce ne abbiamo diversi altri che lavorano nel mondo della finanza, dal fintech e insurtech a altri osservatori nell'ambito del crowd investing per fare alcuni esempi. Dopodiché un secondo ambito importante è quello dei laboratori. Abbiamo creato recentemente un laboratorio che si chiama Blockchain Innovation and Solutions Hub nella quale oltre alla parte di ricerca tipica degli osservatori abbiamo anche una parte proprio di sperimentazione applicativa. E infine il versante fondamentale della formazione. Da questo punto di vista abbiamo due luoghi principali nei quali si fa formazione su questi temi. Da una parte all'interno della School of Management, il MIP che è la nostra Graduate School of Business, all'interno della quale partirà un percorso fintech e blockchain specificatamente proprio a inizio gennaio con un taglio più di tipo gestionale e l'altro è il dipartimento di elettronica informazione e bioingegneria nella quale attivo un altro progetto che viene chiamato proprio bootcamp, cioè campo di addestramento proprio a significare che l'obiettivo è proprio quello di sporcarsi le mani e addestrarsi con la tecnologia non necessariamente sapendone già, anche potendo sostanzialmente imparare e entrare anche sostanzialmente da neofiti. Bene, quindi tutto questo è il bagaglio che pensiamo di portare all'interno di questo percorso. Quindi adesso non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurare davvero un proficuo lavoro. La parola quindi al moderatore. Grazie, grazie Alessandro, grazie per l'introduzione e grazie agli osservatori e a Consob per avermi invitato a gestire questo seminario che è appunto, come abbiamo sentito, sentito è solo l'inizio di un percorso nel quale la Consob e gli osservatori del Politecnico di Milano hanno immaginato un'esplorazione di questo mondo della finanza che sta cambiando a un ritmo velocissimo sull'onda dell'innovazione tecnologica e competitiva che deve andare ovviamente di pari passo con un'evoluzione normativa. Io inizio a introdurre un po' i termini che saranno poi esplorati il token, la distributed ledger technology, la blockchain, i crypto asset sono concetti che fino all'altro ieri venivano guardati con un po' di circospezione e con qualche diffidenza. Oggi sono entrati nel salotto della finanza, come abbiamo sentito, e quindi è necessario comprenderli, arrivare a un solido livello di conoscenza e di consapevolezza rispetto a questi strumenti da parte di tutti gli attori interessati e soprattutto credo che sia da sottolineare anche il fatto che è un'opportunità per l'ecosistema del Paese per valorizzare competenze già esistenti in campo informatico, crittografico e di tecnica finanziaria, come dal resto il Politecnico di Milano che ci ospita, conferma. Per questo appunto Consove e gli osservatori propongono un percorso che inizia oggi con sei appuntamenti mensili dedicati a questi temi, oggi parleremo di strumenti finanziari in distributed ledger technology, sfide e opportunità, poi proseguiremo il 5 novembre con un appuntamento dedicato a MICAR con le implicazioni per il mercato primario e secondario, il 10 dicembre pilot MIFID, la sperimentazione sulle infrastrutture di mercato, poi apriremo il nuovo anno il 14 gennaio con un appuntamento dedicato a MICAR, dati e nuovi modelli di business, il 4 febbraio sui profili di antiriciclaggio fiscali legati al mondo dei cryptoasset e il 4 marzo con i profili societari legati a questo mondo. Incontri che, come dicevamo, vogliono far crescere il livello di consapevolezza attorno a questi strumenti e proprio per questo sono aperti a tutti in streaming, in diretta, ma che da lunedì saranno disponibili anche sul sito degli osservatori del Politecnico di Milano per chi non fosse riuscito oggi a essere presente. L'ultimo appunto che devo fare è il fatto che, appunto, ben felice di questa grande partecipazione a questo primo evento, posso dire che tutti possono intervenire mettendo delle domande ai relatori via chat. Non mi resta a questo punto lasciare la parola al Commissario Consob che introduce la prima tavola rotonda in cui è strutturata la mattinata. Prego. Grazie, grazie per Angelo e grazie al Professor Savona e grazie al Professor Perego. Questo è un momento molto importante nell'evoluzione della finanza internazionale, continentale e anche italiana. E di questi giorni, di mercoledì, l'intervento del CEO di Google, Sundar Pichai, che all'interno di un discorso più generale sulla sostenibilità, però, ha dato il segnale dell'ingresso, per esempio, in quel caso, attraverso l'assegnazione di rating ai prodotti finanziari da parte di Google, un ingresso nel mainstream, sia della finanza, sia della sostenibilità. Vedremo poi gli effetti che ci saranno. D'altro canto, l'Europa si prepara, diciamo, a questo momento così importante, con un suo pacchetto. Un pacchetto, il pacchetto sulla finanza digitale, che è quello su cui ci concentreremo in questi sei appuntamenti. Come ricordava Preangelo Soldavini, ci sono alcuni termini che ricorreranno. Per un po' di organizzazione mentale, rispetto alle regole che si stanno discutendo, tre termini saranno ricorrenti, uno forse un po' meno, ma mica è il regolamento che si occuperà delle emissioni in DLT, sia di securities, azioni e obbligazioni, sia di altre attività finanziarie. Pilot sarà l'altro regolamento, che si occupa del mercato secondario, delle cose che ho appena ricordato. Dora, di cui ci occupiamo un po' meno, ma poi in qualche modo uscirà, farà parte, diciamo così, non riuscirà a restare nel background, è quello che si occupa della cyber security, di tutto di questo e di quello che già c'è sul mercato finanziario. Queste tre cose si tengono e questo è il Big Bang continentale che si sta avvicinando. La discussione è in corso, è in corso presso il Consiglio. Gli Stati membri stanno discutendo in Consiglio, ma si preparano anche al loro interno con le legislazioni che sono necessarie, con le autorità che si preparano a questa sfida e ovviamente anche il mercato ci mancherebbe, che ovviamente è pronto. E poi vedremo i vari attori. Gli Stati membri dovranno fare comunque un loro pezzetto di legislazione, perché non tutto è armonizzato, ma noi questo lo vedremo poi più in concreto anche già stamattina. La Consub partecipa, insieme con il Tesoro, alla negoziazione di questo pacchetto, quindi pacchetto unico, con l'entrata in vigore probabilmente abbastanza ravvicinata dei tre pezzi. E diciamo così, per prepararci a questo Big Bang, la Consub ha ritenuto utile mettere in cantiere questi sei eventi, i sei eventi che ricordava Pierangelo poco fa. I sei appuntamenti mensili scandiranno questo avvicinamento al Big Bang, cioè da adesso a ottobre, più o meno a marzo, poi vedremo quale sarà la data dell'avvio. Abbiamo pensato di fare questo insieme con il Politecnico di Milano, che con il suo osservatorio blockchain e DLT, da tempo mappa e anima proprio questa comunità. Allo stesso tempo sarà l'occasione per un esercizio aperto, aperto a tutta la ricerca economica, giuridica, scientifica nazionale e aperto al mercato sia in termini di incumbent, chi già c'è, sia in termini di newcomers, chi vuole entrare in questo mondo. E direi per comprendere, per approfondire, cogliere le opportunità, cogliere le mancanze e pensare poi ad un'azione, e per quanto riguarda la Commissione, la necessaria regolazione. Quindi io ringrazio intanto, approfitto per ringraziare il Politecnico per la collaborazione, il professor Perego, Valeria Portale, Francesco Bruschi e tutti gli altri che hanno collaborato. Cominciamo oggi e quello che segue, cominciamo con due, quindi questi appuntamenti saranno sempre scanditi in due fasi temporali. Una prima fase di riflessione, detta accademica, sarebbe forse un po' riduttiva, diciamo così, su regole e contesto, diciamo così, punto regolatorio. Una seconda fase che guarda al mercato, sia dal punto di vista tecnologico, ma anche di opportunità di mercato in senso stretto. Non necessariamente questi confini saranno così netti. Già oggi cominciamo a blurring la linea, e spiegarlo adesso perché. Oggi sentiremo in una prima fase Anna Genovese, Stefano Caselli e Gian Mario Mossa, in particolare Anna Genovese, ordinario di diritto commerciale all'Università degli Studi di Verona, già commissaria Consum, Stefano Caselli, ordinario di economia degli intermediari finanziari e prorettore degli affari internazionali dell'Università Bocconi, e Gian Maria Mossa, amministratore delegato e direttore già di Banca Generali. Nella seconda fase incontreremo insieme con Francesco Bruschi, Alessandro Roveda, Head of Blockchain Solutions di SIA, e Marco Pagani, CEO di Whiskey. Ma poi l'introduzione alla seconda parte la lascio ai colleghi del Politecnico. Quindi entriamo a questo punto nella nostra discussione, e appunto, come dicevo, abbiamo qui Anna Genovese, Stefano Caselli e Gian Mario Mossa. E cominceremo con un paio di giri abbastanza mossi, se posso, di discussione. E io direi, prima domanda, come sappiamo, una delle principali novità nell'applicazione della DLT è la possibilità di emettere strumenti finanziari, appunto, su blockchain. Abbiamo visto diversi esperimenti e, per esempio, da ultimo, abbastanza famoso nel nostro mondo, l'emissione di obbligazioni su DLT digitali native, condotta dalla BEI insieme con la Banca di Francia e il Tesoro Francese. E questi eventi ci sembra che confermino la potenzialità e il forte interesse di mercato per questi sviluppi. Anche in Italia ci sono alcune riflessioni in corso. Sul fronte europeo, noi sappiamo, appunto, ricordavo prima la proposta che è sul tavolo del pacchetto, e, diciamo così, che aprirà sia possibilità di emettere su DLT di strumenti finanziari, sia di sperimentare live sul mercato infrastrutture, diciamo così, per il mercato secondario, sia ovviamente nel trading e ovviamente con gli effetti di post-trading. Allora, questo primo giro per i partecipanti è un po' a voi una riflessione su, direi, opportunità e rischi di questa evoluzione. Professor Caselli, Stefano, quali sono, secondo te, potenziali sviluppi e impatti che tu intravedi su questo? Grazie per la domanda e un grazie al professor Savone e al professor Pergo per l'invito graditissimo. Potenziali sviluppi e impatti ovviamente è un work in progress. La prima considerazione che faccio è che, esagerando un pochino il tema trading e post-trading, io lo vedo un po' come la madre di tutte le partite, perché è come se fosse un incrocio di più strade, quindi abbiamo accessi diversi, ma in realtà è nell'incrocio che la partita si gioca veramente, vengono legittimati i giocatori, possono avvenire gli incidenti, quindi penso che questa sia l'area più importante da presidiare in assoluto, perché legittimerà o meno determinate attività. Seconda considerazione, prima di citare il tema sviluppo e impatti, è che in questo incrocio arrivano in effetti oggetti molto diversi, quindi in generale abbiamo tre grandi aree stable o instable coins, francamente, crypto che rappresentano securities convenzionali e crypto che rappresentano valori su cui lo spazio è infinito. E devo dire, i vari player sul mercato stanno reagendo anche nei modi più diversi, perché sta diventando anche molto difficile distinguere quello che è finanza convenzionale da finanza non convenzionale. Cito i due estremi, la Cina che vieta i crypto asset e un piccolo Stato, El Salvador, che decide di utilizzare il Bitcoin come moneta legale. Sono due estremi, ma in mezzo troviamo tutto. Se arriviamo a sviluppi e impatti, io vedo cinque aspetti importanti. Il primo, di cui ci accorgiamo fino a un certo punto, è che FinTech avrà uno sviluppo esponenziale, quindi è chiaro che questo non uccide il vecchio mondo, ma sviluppo esponenziale vuol dire che diventa dominante. Faccio l'esempio, tutti utilizziamo WhatsApp, poi se ci vogliamo parlare facciamo anche una telefonata, ma WhatsApp è dominante e così sarà lo stesso in finanza. Il secondo tema, il chiaro abbassamento dei costi delle tecnologie di DLT, quindi con una rivoluzione dei contratti di outsourcing e dei centri di knowledge, nel bene e nel male. Terzo aspetto, FinTech vuol dire capillarità dei processi di placement, quindi più si svilupperanno cryptoasset rappresentativi di securities tradizionali, questo vuol dire che l'attività di placement avrà una capillarità straordinaria, batterà le differenze che utilizziamo oggi, ad esempio fra retail, private e high network individual, questo dobbiamo metterlo a fuoco. Il quarto aspetto, è che ci saranno sviluppi di finanza nuova rispetto alla tradizionale distinzione debito-equity, pensiamo ai cryptoasset che sono rappresentativi di valore, sono debito, sono equiti, non necessariamente, saranno forme intermedie nuove e l'ultimo aspetto, la grande potenzialità che vedo, abbastanza inevitabile, necessaria, è lo sviluppo di crypto fund o di fondi tradizionali che comprano cryptoasset, quello lo vedo come un passaggio fondamentale anche di acclimatamento dei risparmiatori e di mediazione, di riduzione dei rischi per il mercato. Grazie Stefano. Professoressa Genovese, Anna, a fronte di questo quadro in cui Stefano Caselli ha messo in luce per esempio dei punti di incrocio delle evoluzioni direi tecnicamente disruptive rispetto al mercato di come lo cominciamo oggi. Pensando alle regole, quanto di queste evoluzioni tu ritieni possa essere stata rallentata dalle regole o dall'assenza di regole? Grazie per la domanda e grazie per l'invito alla Consob e al Politecnico. L'evoluzione a cui abbiamo fatto riferimento è stata rallentata da un quadro regolatorio che non contempla questa trasformazione, cioè la trasformazione digitale degli strumenti finanziari in senso tecnico. La regolazione promuove concorrenza e innovazione, tuttavia non si presta a consentire né direi a stimolare l'utilizzo della DLT per pubblica emissione di strumenti finanziari. Il dato normativo ha a mente strumenti finanziari concepiti e trattati da intermediari autorizzati che li conferiscono alla gestione accentrata e che assicurano una circolazione di tipo analogico. Con riferimento agli strumenti finanziari digitali, l'assenza di riconoscimento normativo è una barriera all'ingresso di nuove tecnologie nei processi di investimento più diffusi. Alcune esperienze ci sono, intendiamoci, e sono state anche oggi ricordate. Le prospettive evolutive schiuse dalla DLT però vanno potenzialmente oltre queste manifestazioni. la digitalizzazione può infatti coinvolgere su larga scala il formato giuridico degli strumenti finanziari. Si può dire anzi che una delle innovazioni più significative della DLT consiste proprio nel mettere a disposizione una nuova forma di rappresentazione di agile circolazione di posizioni giuridiche date. L'accostamento è quindi con la disciplina degli strumenti finanziari in quanto valori immobiliari e titoli di credito. I titoli di credito infatti per statuto normativo fanno circolare i diritti che incorporano in un modo veloce semplificato e sicuro. Tuttavia l'estensione ai token dello statuto normativo dei titoli di credito e degli strumenti finanziari non può essere operato in via interpretativa. Sicché oggi in pratica l'uso della DLT per l'emissione di strumenti finanziari si scontra con norme di legge e regole di mercato che tipizzano i veicoli di investimento circolanti e che filtrano quelli trattati nelle sedi di negoziazione riconosciute in ragione della forma non includendo fra tali forme il token. Lo scenario però come è stato detto sta per cambiare con il digital finance package il piano europeo comprende infatti un regolamento che riguarda l'emissione digitale anche di security token e con un regolamento pilot che permetterà alle autorità nazionali di testare lo svolgimento delle funzioni di trading e di post trading proprio con l'utilizzo di token che vengono negoziati. la prospettiva quindi è un adeguamento strutturale complessivo della regolamentazione UE degli strumenti finanziari che includa quelli nativi digitali. L'attenzione dunque finalmente si potrà spostare dalle tecniche per superare le barriere regolatorie allo studio e alla realizzazione di progetti di finanza digitale che coinvolgano strumenti finanziari tipizzati e servizi finanziari riservati. Grazie Anna Dottor Mossa con queste due lampi di prospettiva e di opportunità diciamo di mercato di regolatoria secondo lei il mercato come si sta preparando? Grazie Innanzitutto grazie a voi per l'invito grazie al presidente Savona al presidente al presidente Perego io innanzitutto credo che questa sia un'occasione unica per iniziare un dibattito su come il sistema attuale possa trarre beneficio da quella che è stata definita molto correttamente una rivoluzione tecnologica che cambierà drasticamente il modo di fare finanze ci sono due mondi il mondo diciamo degli strumenti finanziari che va a mio avviso regolato è riportato negli schemi tradizionali gli investimenti ma per un fine di tutela e poi invece quello che gli strumenti finanziari tradizionali possono ereditare da una nuova tecnologia e quando si avvicina una tecnologia che indubbi vantaggi agli strumenti finanziari è chiaro che le modalità operative e regolamentali devono essere tenute da conto ed è chiaro che all'interno degli schemi tradizionali è difficile pensare a portare questa innovazione quindi noi da una parte stiamo cercando di capire perché questa è una vera discontinuità che ha una velocità impressionante capiamo attraverso l'esposizione nel mondo del venture capital capiamo attraverso il dialogo con delle piattaforme anche italiane anche con la partecipazione nel capitale dialoghiamo con il mondo accademico ma dall'altra stiamo cercando di concretamente sperimentare concretamente sperimentare e qui c'è bisogno enorme del regulator è quello di lavorare in un ambiente protetto sandbox per capire esattamente dove possiamo da dove si può partire per creare valore per il sistema e all'interno del sistema il tema grossissimo che la DLT potrebbe risolvere è il tema dell'accessibilità e il tema dell'accessibilità vuol dire rendere fruibile l'accesso ai capitali o all'accesso all'accesso a determinate soluzioni illiquide per una popolazione più estesa possibile quindi quello che stiamo facendo su stimolo di reply col cetif e con tanti altri operatori è individuare due use cases due o più use cases tipicamente nell'emissione del primario delle piccole e medie imprese ma anche ragionando sul tema di asset illiquidi che oggi rappresentano anche un blocco per liberare risorse nel nostro paese pensate al mondo immobiliare e valutare end to end quelli che sono i benefici reali di questa tecnologia e quali sono i paletti e i nuovi confini e il campo da definire insieme al regolatore per portare in Italia quello che è a mio avviso un'innovazione molto forte che non possiamo lasciare in mano ad altri paesi altri paesi sono partiti sono partiti con sandbox sono partiti con la sperimentazione e quindi noi dobbiamo riuscire veramente l'industria della finanza il mondo accademico e il mondo del regulators per sperimentare cioè il tema dell'execution e di scendere in campo è determinante per tagliare un ruolo anche al nostro paese in questo nuovo scenario competitivo grazie grazie dottor Bossa proviamo adesso a muovere da un approccio diciamo così più generale a un focus un po' più italiano noi sappiamo di vivere in un sistema bancocentrico in un'economia reale che vede una basata soprattutto in termini quantitativi diciamo di numerosità ma non solo di numerosità su piccole e medie imprese piccole e piccolissime per le quali proprio i temi che stiamo discutendo potrebbero rappresentare una nuova opportunità di accesso al mercato e se posso tornare al dottor Mossa dal suo punto di vista quanto pensa sia pronto il sistema finanziario nazionale e cosa magari può mancare per fare questo salto ma allora il nostro paese ha delle peculiarità che poi sono anche i nostri punti di forza il mondo delle piccole e piccolissime imprese oggi trova nell'accesso dei capitali uno dei limiti più grossi perché oggi i capitali sono sostanzialmente accentati sul sistema bancario tradizionale che è un po' ingolfato e quindi l'impresa il nostro mondo è quello di dialogare con gli imprenditori piccoli o medi che siano è pronta e cerca nuove fonti di approvvigionamento di capitali e credo che la blockchain e di alti sia una risposta molto importante per rendere accessibile il finanziamento di queste piccole e medie imprese così come se pensiamo alla ricchezza del nostro paese che è un altro grande pilastro su cui rilanciare l'economia e i consumi sono molto focalizzati e molto basati anche su tutto il mondo immobiliare che oggi è probabilmente l'asset più liquido e più problematico in prospettiva allora il mercato diciamo gli operatori sul mercato sono pronti ma di nuovo si torna al tema della sperimentazione perché poi se non si prova diventa un po' complicato e teniamo conto che oggi si sta cercando di fare del sandbox in cui introduciamo la DLT su specifiche iniziative che può essere l'emissione di un'obbligazione piuttosto che la tokenizzazione di un mobile ma il passaggio successivo è quello di creare un processo end to end perché tutto il mondo del digital euro tutto il mondo della electronic money tokenizzata rappresenteranno l'ultimo miglio per poter spostare in un campo diverso quello che è l'attività tradizionale di fare finanza e io la considero sempre faccio sempre l'esempio della telefonia quando noi ci siamo spostati dal telefono fisso allo smartphone inizialmente qualcuno ha pensato che fosse per telefonare in modo più efficiente in realtà oggi sullo smartphone ha fatto Stefano l'esempio di Whatsapp il mondo delle app fa la differenza ecco se noi immaginiamo la DLT solo per l'efficienza del sistema sbagliamo perché quando si riesce a costruire end to end il processo con anche la digitalizzazione della moneta noi ci possiamo attaccare una serie di servizi di smart contract che rendono il prodotto diverso lo rendono più efficiente più personalizzato più accessibile che esattamente l'utilizzo delle app su cui noi oggi dedichiamo tante attenzioni sullo smartphone smartphone che però inizialmente era inteso come strumento per comunicare solo per comunicare con la linea telefonica tradizionale quindi l'invito è partiamo con la regolamentazione ci sono gli operatori di mercato sono pronti le stesse banche possono avere un vantaggio enorme nel sfruttare la DLT per liberare un po' diciamo gli attivi dagli elementi che ingolfano un po' il sistema bancario ed essendo un mondo che oggi è concentrato nel sistema bancario lo sviluppo di un mondo alternativo probabilmente più semplice che in altre economie in altri paesi grazie buon punto quello del gateway diciamo per gateway dell'emissione per altri servizi e questo è un punto cruciale non che diciamo così questo anche per noi regolatori è come dire un punto importante perché perché deve farci riflettere sulla sull'ampliamento del campo nel momento in cui si entra su un pezzo io sto guardando in questa fase la parte di regolazione dell'emissione per esempio il punto vero che è l'inizio di un processo assolutamente punto preso grazie Stefano secondo te quali sono i rischi di un eventuale ritardo italiano su questo fronte domanda diciamo così alzo la barra molto ampia se parliamo ovviamente di piccole e medie imprese ovviamente la madre di tutte le partite ovviamente quella dei capitali per la crescita che è qualcosa che ci ripetiamo da sempre per fare crescita abbiamo adesso due gambe quelle della finanza tradizionale chiamiamola mettere virgolette su cui penso sia stato fatto tutto il possibile cioè oggi diciamo una piccola impresa se vuole può accedere facilmente al mercato dei capitali e quotarsi in borsa può accedere facilmente a private equity investor diciamo però il mercato sta rispondendo fino a un certo punto però abbiamo anche la gamba digitale che offre delle opportunità straordinarie perché ritorno al concetto di whatsapp la tecnologia esponenziale e perdonatemi la licenza politica abbassa la soglia del pudore cioè diventa molto più facile sviluppare determinate attività per cui le piccole e medie imprese in questo hanno una possibilità di raccolta capillare assolutamente straordinaria e questo abbatte poi la distinzione fra retail e private questa è un'altra considerazione per l'industria e per il regolatore quindi una facilità di accesso senza pudore e senza limiti che risulta essere molto più potente e facile per le aziende più piccole quindi è una partita su cui l'Italia deve essere ma perché e affinché funzioni dobbiamo riflettere un poco su quelle che sono le condizioni abilitanti quelle che ci consentono di fare parola abusata un buon ecosistema sicuramente c'è bisogno di consapevolezza che questa è un po' una partita fondamentale abbiamo bisogno di lavorare il più possibile su quella che è l'attività del trading perché questa è la vera tutela per degli investitori che accedono per la prima volta se io sono un investitore retail che inconsapevolmente decide di finanziare per 3 euro una piccola impresa o un determinato affare di una piccola impresa perché compra o il token di un affare che non è di debito né equiti l'unica garanzia vera è avere un mercato particolarmente liquido che funziona e mi dà la possibilità di uscire perché non ne ho compreso perfettamente le ragioni terzo aspetto è advisory 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 questa può essere fatta e deve essere fatta a mio giudizio questo è anche il mio mondo dagli intermediari finanziari cosiddetti tradizionali quindi è fondamentale lo sviluppo di questa attività e sicuramente come è avvenuto nella finanza tradizionale il ruolo di elementi di mediazione ho citato prima il ruolo che potrebbero avere OCR convenzionali o cripto a mio giudizio è essenziale perché quando il rischio è alto o la possibilità di comprendere è bassa perché stiamo sperimentando non una sandbox ma decidiamo di andare dal vivo il ruolo che i fondi potrebbero esercitare a mio giudizio è essenziale quindi lo considero un fattore abilitante e probabilmente di successo perché la partita generi dei vantaggi veri per il nostro sistema Stefano grazie voglio solo sottolineare i tuoi ultimi tre punti consapevolezza liquidità e e e come dire e intermediazione posso dire così dove consapevolezza è chiara liquidità e la tutela reale te la chiamerei e quindi qui il punto cruciale come dicevi già all'inizio è la disponibilità e il funzionamento effettivo le due cose non scontate non vanno esattamente insieme quindi disponibilità di un mercato secondario e funzionamento effettivo di un mercato finanziario l'ultimo la intermediazione da parte e la creazione di appunto di 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 investitori virgolette istituzionali su questo buon punto Anna dunque noi stiamo vedendo che avendo presente quello che ci hanno detto i due relatori che sono intervenuti noi stiamo vedendo che poi in concreto che so Francia Germania Lussemburgo hanno introdotto delle regole specifiche per le emissioni in DLT e il punto è perché perché ho bisogno di una norma nazionale su questo come si incrociano queste norme nazionali rispetto al quadro regolatorio della commissione europea grazie queste discipline sono essenziali e complementari rispetto alla regolazione europea in via di approvazione il pacchetto europeo infatti mira a predisporre un quadro regolamentare organico per i mercati in cui sono trattati crypto asset di vario tipo e per i servizi che in funzione di questa circolazione sono anch'essi offerti il progetto europeo non considera invece né potrebbe farlo per ragioni di competenza profili di disciplina riferiti alla causa sottostante e agli effetti giuridici della emissione e della circolazione di criptoattività questi profili restano appannaggio delle discipline nazionali in materia di contratti e di obbligazioni queste discipline al fine di apprestare per il fenomeno una cornice normativa adeguata possono richiedere integrazioni ossia nuove norme imperative o dispositive dispositive nel caso come quelle adottate dai paesi che hai citato questi paesi infatti hanno colmato lacune dispositive riferite al riconoscimento della emissione dei token come incorporazione di diritti in un veicolo che permette la circolazione veloce e sicura di tali diritti gli interventi legislativi consentono in pratica di assimilare quanto ad effetti della emissione della circolazione tutti o determinati token a seconda delle scelte operate a titoli di credito o strumenti finanziari si tratta quindi di discipline che si propongono come presupposto di diritto interno alla regolazione di mercato che l'UE sta per varare i paesi hanno scelto quindi di edificare l'indispensabile pilastro privatistico e cartolare della finanza digitale prima autonomamente dal completamento del pilastro o è riferito al mercato in cui tali asset potranno circolare e se ci domandiamo perché l'hanno fatto la risposta è che una simile scelta è funzionale ad attrarre nella giurisdizione nuove industrie che possono iniziare attività in un quadro di regole più chiaro e definito e possono così acquistare vantaggi competitivi su scala regionale e globale la partita del futuro del resto è fra chi riuscirà a condurre il gioco dal versante dello sviluppo dell'offerta di nuovi prodotti e servizi e chi diventerà il mercato di sbocco di questi nuovi prodotti e servizi e anche fra chi avrà le competenze l'esperienza per esercitare un'influenza su questo mondo in costruzione e chi non ce le avrà evidente da quale parte sia preferibile posizionarsi in quale parte sia possibile posizionarsi e anche quale ruolo le normative nazionali interne possono giocare in partita grazie Anna vediamo se se ho capito quindi esiste un quadro europeo il quadro europeo copre tutto ma non proprio tutto perché comunque nella costruzione europea c'è rimasto un pezzo che è rimasto di competenza nazionale che è la disciplina civilistica del del titolo di credito e che quindi probabilmente segue diciamo così le tradizioni civilistiche di ciascun paese differenti da questo punto di vista quando viene il quadro europeo se non copriamo questo 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 last mile come un po' come direbbero quelli delle telecomunicazioni dal cabinet alla home cioè l'ultimo pezzettino non si può partire con le cose paradossalmente più ovvie cioè le emissioni di azioni nazionali e le emissioni di obbligazioni nazionali quindi questo pezzo va fatto in questo senso colgo l'occasione di ricordare che Consoba ha fatto un suo lavoro e lo sta lo ha condiviso con il tesoro e sono in corso discussioni perché ci sia sia diciamo così definita la norma nazionale che permette di colmare questo ultimo pezzettino allo stesso tempo tu hai ricordato un punto che mi sembra un po' forse un punto interessante per la conclusione di questa prima parte che proprio perché diciamo così c'è una una corsa che parte come come una corsa appunto di atletica leggera che parte ci sarà una competizione degli ordinamenti e dei mercati europei su questo su cui vedremo nella quale competizione vedremo nuovi competitor magari rispetto a quelli classici qui la competizione si farà appunto ovviamente sulla disponibilità di un quadro regolatorio scontato se non c'è difficile competere ma poi il punto sarà l'ecosistema l'ecosistema sarà fatto da un diciamo così un ecosistema finanziario tecnologico di rete ovviamente perché anche qui ci saranno nuove infrastrutture ci saranno gli exchange che sono le nuove infrastrutture più leggere delle infrastrutture che noi conosciamo e quindi anche però più facili da più facili anche da mettere in piedi e qui ci sarà diciamo così anche l'opportunità ovviamente anche per il mercato italiano di riflettere se questo è il diciamo il momento per ripensare anche che so la piazza finanziaria milanese in questo contesto digitale ovviamente sì questa è un'opportunità che diciamo così è presente su quest'ultimo pensiero diciamo evolutivo io mi fermo ringrazio Anna Genovese Stefano Caselli e Gianmaria Mossa per la disponibilità e lascio e lascio a questo punto rimetto il microfono al conduttore grazie grazie però io invito i tre relatori a rimanere presenti perché appunto volevamo procedere con alcune domande che stanno arrivando dal pubblico però devo dire le prime che arrivano forse sono più operative quindi le rimandiamo alla seconda alla seconda sessione volevo riprendere un po' il tema della diciamo delle sperimentazioni della regolamentazione sperimentale che si stanno attuando in altri paesi e visto che ormai è operativa anche da noi la sandbox regolamentare allora volevo sentire dai tre relatori insomma questo dal punto di vista si è parlato anche di ecosistema ecco quali sono le lezioni che possono arrivare dalle sperimentazioni esterne e quanto l'Italia in questo momento è pronta a partire su questo aspetto che come abbiamo sentito è diventa davvero cruciale non so passiamo al professor Caselli partiamo da lei ma tutti stanno sicuramente sperimentando quindi siamo in questa fase devo dire che però il tema più più importante a mio giudizio da mettere sul tavolo è quello di comprendere che non soltanto è necessaria una corsa giusta quindi fondamentale a far sì che i crypto asset rientrino nella famiglia del debito o dell'equity quindi è assolutamente giusto lo ribadisco che vi sia un tentativo di classificazione perché questo dà sicurezza e certezza al mercato e agli investitori però dobbiamo prestare molta attenzione anche a un altro aspetto cioè la forza di fintech e della crypto finance è legata al fatto che può scardinare la tradizionale classificazione fra debito ed equiti questo è il vero punto cioè pensiamo ad esempio a una piccola impresa che voglia raccogliere debito benissimo utilizza tecnologie distribuite per poter raggiungere più capillarmente gli investitori ma pensiamo a una piccola impresa che decida di finanziare un determinato affare ad esempio l'acquisizione di un'azienda fuori dal territorio nazionale o la costruzione di un impianto o di un immobile allora può ragionare in questi termini distribuire token ai risparmiatori che partecipano a questo affare ma questo non è debito non è equiti e dico anche qualche cosa di un po' troppo forte non rientra nemmeno nel bilancio come noi lo intendiamo di una piccola impresa ecco quindi la mia raccomandazione è nella sperimentazione corretto andare a classificare la nuova finanza nelle categorie tradizionali ma dobbiamo fare anche un esercizio di sperimentazione su quella che è una visione diversa di come si possono finanziare progetti e attività delle imprese e vale anche per le start up ad esempio in modo ancora più forte professoressa Genovese vuole aggiungere qualcosa sì io grazie io aggiungerei che è essenziale che alla sperimentazione come previsto partecipino le autorità nazionali perché possono esattamente sul campo cogliere la varietà del fenomeno a cui è stato fatto riferimento e individuare le litine di intervento regolatorio non necessariamente omogeneo che richiede la diversità di manifestazioni che il fenomeno può avere quindi una regolamentazione che non imbriglia le novità e la diversificazione ma che riesce a modulare gli istituti anche nuovi rispetto ai istituti normativi tradizionali che conosciamo per raggiungere comunque un obiettivo di adeguata protezione dell'integrità di questo mercato e dei diritti di coloro che vi accedono Dottor Mossa lei che aveva sottolineato l'enfatizzato l'importanza della sperimentazione cosa ne pensa? Guardi io porto l'esempio concreto che stiamo facendo perché siamo in un contesto del sandbox e stiamo cercando di tracciare tutto il processo in termini di risultati e di miglioramenti di impatto ed è un tema di riduzione della complessità aumento della trasparenza aumento della scambiabilità ma anche soprattutto che l'aspetto che cercavo di sottolineare anche prima ampliamento del campo di gioco nel senso che nella misura in cui poi dovessimo riuscire a collegare l'intero processo e quindi entrare nel mondo anche del digital chiamiamolo digital money i contratti smart che possono essere associati alla filiera danno un vantaggio enorme faccio un esempio semplicissimo per capire noi decidiamo di finanziare una piccola media impresa lo possiamo fare con una logica professionale di comprare uno strumento e poi rivenderlo con una finalità di trading oppure una logica di investimento di lungo periodo lo smart contract potrebbe prevedere già una tipologia di fiscalità diversa in funzione della finalità dell'investimento e sono molto d'accordo con il professor Caselli con Stefano quando si dice attenzione a cercare di incasellare nelle definizioni tradizionali di strumenti finanziari qualcosa che estendendo il campo di gioco difficilmente può essere come dire incapsulato in qualcosa di più piccolo ecco che è da qui che lo sforzo la difficoltà secondo me per il regolatore di consentire questo tipo di sperimentazione perché va molto oltre a quello che è la semplice emissione o negoziazione di un bene diciamo finanziario reale tokenizzato bene grazie stanno arrivando domande e direi che forse sono domande per Paolo Ciocca c'è Lorenzo che dice considera come l'Italia sia molto indietro rispetto ad altri paesi europei rispetto alla Germania dove è consentita la custodia di crypto asset e dove ci sono già delle autorizzazioni per crypto institutional funds e allora si chiede come mai il nostro sistema è così indietro rispetto ad altri paesi e aggiungerei insieme Massimiliano che chiede qual è il possibile scenario approccio regolamentare che si può immaginare in una prospettiva di DeFi di finanza decentralizzata Pierangelo se sei d'accordo comincio al volo con Toti 1976 se leggo bene che dice questo è una svolta per le piccole e medie imprese quindi qui la vera smarco velocemente sì assolutamente sì ovviamente bisogna entrare in questo mondo non è che è una svolta che cade dal cielo bisogna entrarci come emittente e poi anche nel meccanismo ma insomma siamo qui apposta con questi sei appuntamenti per aiutare a entrare anche nel modo di ragionare poi l'altro punto era se non sbaglio Lorenzo D'Angelo perché siamo in ritardo ma siamo in ritardo dunque allora la riflessione sul quadro normativo la Consob l'ha fatta e la Stacconda sta discutendo con il tesoro all'interno di un gruppo di lavoro che è stato avviato quindi il tempo ci siamo colgo l'occasione anche di ricordare che appunto ma Pirangelo l'aveva detto prima è partita anche la sandbox nazionale meccanismo che è previsto da norma e regolamento che vede le varie autorità quindi non solo Consob Consob Banca d'Italia Ives lavorare insieme con delle finestre temporali che sono state recentemente annunciate tutto quello che vi dico ovviamente è disponibile sul sito e quindi quello è il luogo in cui per esempio si può anche discutere del punto specifico che mi sembra che facesse se ricordo bene Lorenzo che era quella della dunque chiedo scusa le autorizzazioni su Crypto chiedo su Crypto Institutional Funds l'altro punto invece era Massimiliano sulla DeFi e sulla DeFi devo dire c'è discussione ancora forte all'interno del consiglio nella discussione del regolamento mica perché comunque il regolamento mica richiede la identificazione di un punto di diciamo così un punto di riferimento in senso regolatorio e quindi come entri la DeFi all'interno del regolamento mica ancora è presto per dirlo questo devo dire la discussione si sta svolgendo abbastanza in modo abbastanza animato a livello del consiglio il punto di caduta poi lo vedremo quindi il tema è rientrerà pienamente la DeFi dentro il regolamento mica sì o no e questo lo vediamo però adesso ancora non mi sento di dare una risposta finale no mi fermo qui però mi so se Pierangelo ce n'è arrivata un'altra che per non sì è arrivata un'altra domanda che in qualche modo riprende anche qui considerazioni già fatte fin dall'inizio anche dal presidente Savona dice è possibile distinguere tra le cripto quelle che fungono da moneta pura per esempio bitcoin da quelle che assumono valore di strumento finanziario perché asset backed o collegati a un business non so se professor Caselli se vuole rispondere lei sulla carta la distinzione ci sarebbe ma non è tale cioè un'area di ambiguità e un'area grigia ci accompagnerà per tantissimo tempo cioè nella misura in cui il bitcoin ha una volatilità cito il bitcoin per citare quella più ovviamente visibile ha una volatilità che tutti conosciamo basta per vedere il tracking del prezzo nell'ultimo anno è molto difficile dire che questa sia una moneta non è accettabile un livello di volatilità di questo tipo tuttavia il mercato e gli operatori sempre di più considerano il bitcoin come moneta ora questo vuol dire che l'area grigia ci accompagnerà per molto tempo per distinguere diciamo una cripto attività backed da qualcosa oppure senza alcun tipo di backing questo fa parte delle regole del gioco ma proprio per questo abbiamo bisogno di sperimentazione accettando tutto quello che potrà avvenire il secondo tema liquidità 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 cioè abbiamo tutti bisogno di un exit chiaramente illuminato e in sicurezza e poi ovviamente il ruolo degli intermediari finanziari tradizionali è essenziale e insisto la logica ad esempio di investitori istituzionali potrebbe essere il vero fattore di mediazione di fronte a un'incertezza e aree grigie che sono inevitabili se posso scusate solo una cosa importante secondo me vale per tutti gli operatori e per il regulator più che riuscire a fare una distinzione puntuale delle cryptocurrency che è veramente un esercizio molto complicato io credo che ci dovremmo interrocare su tutta la filiera cioè la custody il wallet e l'exchange perché se noi lasciamo questi tre momenti fondamentali al di fuori del nostro paese qui non è un tema di come lo normeremo è che ci perdiamo un pezzo di valore allora secondo me bisogna capire come all'interno del mondo regolamentare attuale permettere lo sviluppo di iniziative di custodia detenzione e scambio di asset digitali ancora prima di dire di etichettare un asset con una nomenclatura piuttosto che un'altra questo è un vero tema perché vedo l'esperienza che stiamo facendo noi con Conio che è probabilmente una delle più forti start up oggi in l'ambito del wallet digitale e credo che il dialogo di Conio con i regulators oggi possa portare know how per capire come normare l'accesso a questo tipo di servizi in Italia e fuori dall'Italia grazie grazie il tempo è scaduto ci dice il monitor e siccome siamo al Politecnico gli orari vanno rispettati allora io lascerei la parola conclusiva a Paolo Ciocca proprio su un'altra considerazione appunto sempre sul fatto che è un po' sottostante sui rischi che corriamo di perdere questa filiera nel caso di un ritardo della regolamentazione un minuto assolutamente grazie per Angelo ma credo che sia importante perfettamente d'accordo con Dottor Mossa non credo che stiamo dicendo cose differenti che dove mi sembrava che Stefano Caselli la prendesse dal lato diciamo così dell'emittente ma giustamente il punto di mercato è attenzione in un mondo diciamo così attenzione al fronte virgolette infrastrutture un parolone perché noi a pensare infrastrutture ne pensiamo una sola qui invece ce ne saranno n e saranno anche decentrate relativamente custody wallet exchanges era il punto che ho fatto all'inizio assolutamente qui qui viene un tema nazionale cioè quel punto vero qui bisogna sì il regolatore regolatore nella sua fase virgolette regolatorio in senso proprio anche di diciamo così di come si può dire di non mi viene la parola giusta a questo punto non è importante comunque di animazione diciamola così ovviamente non è solo regolatore perché è regolatore mercato istituzioni che comunque su questo hanno competenze ovviamente anche poi il legislatore e quindi questo punto preso è assolutamente cruciale mi sentivo di rispondere non rispondere velocissima riflessione su un punto fatto non ricordo adesso il nome sull'Alessandro sulla sintonia con la secca è un buon punto perché come ricordava il professor Savona la sintonia di principio c'è perché le sfide che hanno i regolatori finanziari sono comuni e quindi il riconoscere che al netto di ciò che viene classificato formalmente come moneta il resto è investimento vale per tutti diciamo nelle economie quantomeno quelle occidentali diciamo così punto ovvio che ci sono situazioni differenti di un mercato americano che invece affronta diciamo così e ha affrontato la parte di di emissione di token in una modalità differente quindi un avvio ormai da tempo di emissioni che poi vengono vedono l'intervento dell'autorità di vigilanza quando superano alcuni parametri e entrano nel mondo delle vere e proprie offerte di securities è una discussione abbastanza tecnica io qui mi sento solo di sottolineare quindi sui principi la differenza non la vedo c'è un modo differente in cui si sono mossi le due regioni la regione europea partirà con una regolazione positiva diciamo tutta insieme nel momento del pacchetto mi fermo e il commissario ciò che è un po' indisciplinato rispetto alle regole niente vi lascio la parola per chiudere la sessione e lasciare alla prossima no io direi che saltiamo qualsiasi chiusura e andiamo direttamente a questo punto alla seconda parte e do la parola a Valeria Portale grazie buongiorno a tutti anche da parte mia sono Valeria Portale sono direttore dell'osservatorio blockchain e distributed ledger e sono contenta e onorata di essere qua a raccontare come un connubio tra il mondo consob cioè il regolatore e la tecnologia il politecnico possano portare valore sul mercato allora credo che sia stato molto utile e di valore la tavola precedente perché ci ha dato tanti messaggi che secondo me ora è importante che proviamo anche a riportare nella seconda tavola rotonda che adesso vi presenterò e che però ha un taglio un po' più tecnico nel capire anche in modo pragmatico a che punto siamo allora ce lo siamo detti siamo davanti a un big bang allora l'immagine che mi piace di più che ho già detto più volte è più quella dello tsunami perché sappiamo che sta per arrivare non sappiamo quanto sarà alta l'onda quindi è importante essere pronti è importante essere consapevoli e questi seminari servono proprio a questo è importante anche che la regolamentazione definisca bene che cosa è possibile fare e che cosa non è possibile fare nel frattempo però gli attori si stanno muovendo e c'è una vivacità del mercato elevatissima il punto vero è l'Italia che partita vuole giocare in tutto questo vuole essere spettatore aspettare che siano attori esteri che arrivino a fare la partita oppure attori italiani che vadano all'estero a fare questa partita oppure è importante che anche gli operatori italiani abbiano un ruolo importante e questo nella tavola precedente mi sembra si è emerso chiaramente anche dagli interventi precedenti quindi veniamo a noi adesso introduco Francesco Bruschi che è appunto direttore insieme a me dell'osservatorio blockchain distributed ledger del dipartimento di informatica chiedo a Francesco di portarsi al tavolo chiedo anche a Alessandro Roveda head of blockchain solution di SIA che ci racconterà quello che stanno facendo all'interno di SIA proprio su questi temi e poi Marco Pagani CEO di Witski Startup quindi nuova entrante di questo mercato che secondo me è una cosa molto interessante a raccontarci e lascio la parola prima a Francesco questa tavola ha un taglio leggermente diverso perché abbiamo chiesto ai relatori di preparare qualche slide per raccontarci un po' il loro punto di vista prima tra tutti Francesco in cui la sfida è raccontare cosa cambierà col DeFi quindi andare un po' proprio sulla frontiera dell'innovazione e raccontarci la rivoluzione del DeFi quindi lascio a Francesco i suoi 5 minuti con l'ausilio di slide mi raccomando sui tempi farò del mio meglio le slide dove sono dove le posso vedere qua ok ma qua non le vedo però ok allora quello di cui vorrei parlarvi oggi è un aspetto definitorio cruciale dei crypto asset ed è la programmabilità il concetto di programmabilità è a volte considerato in modo un po' ambiguo e quindi vorrei cercare di fare un po' di chiarezza spesso sentiamo parlare dei crypto asset come di programmable money ma che cosa vuol dire programmable programmable è qualcosa che è un termine che sentiamo da sempre per esempio nel campo del fintech le blockchaine e i DLT in qualche modo offrono una programmabilità che è sostanzialmente diversa la risposta è sì e cerco di spiegarvelo partendo da un esempio ora immaginate che io voglia proporre un ipotetico servizio finanziario salva black friday la gente durante il black friday spende tutti i propri risparmi allora io voglio offrire un servizio di questo tipo dico datemi tutti mandatemi a questo IBAN tutti i vostri risparmi una settimana prima del black friday io li tengo me li custodisco e dopo una settimana ve li restituisco allora potrei personalmente proporre un servizio del genere molto probabilmente no a questo punto mi ricordo di essere anche un tecnico uno sviluppatore e mi viene questa idea io invece di proporre personalmente la custodia dei risparmi scrivo del codice scrivo un programma che si comporta in questo modo riceve il appunto i risparmi aspetta due settimane e poi li restituisci prendo questo codice lo carico da qualche parte nel cloud ritorno sul mercato e dico guardate non dovete fidarvi di me potete fidarvi del codice che ho scritto bene ho risolto qualcosa molto probabilmente no perché le obiezioni che posso essermi elevate che probabilmente mi verrebbero elevate sono ma chi mi garantisce che il codice che tu fai girare su quel computer sia proprio questo chi mi garantisce che tu non lo cambi che non spegni il servizio a metà che il provider di esecuzione non spenga o modifichi il servizio insomma attualmente nel codice che viene eseguito è affidabile tanto quanto lo è chi lo opera quindi la programmabilità come la intendiamo normalmente per esempio nel mondo del fintech ha questo limite non aumenta non aggiunge credibilità a un'applicazione ebbene uno dei modi di vedere il contributo delle blockchain è proprio in questo senso una blockchain offre qualcosa che potremmo immaginare come un world computer cos'è un world computer è un super cloud lasciatemi dire in cui io posso caricare del codice ma una volta che l'ho caricato non lo posso più modificare il codice verrà eseguito esattamente per quello che è gli utenti possono in ogni momento verificare qual è il codice in esecuzione che cosa comporta la disponibilità di un sistema del genere beh comporta che a questo punto io posso definire un meccanismo il meccanismo di un servizio e l'affidabilità di questo servizio non dipende più dalla mia personale credibilità personale oppure come diciamo istituzione o come entità ma dipende da come è scritto il mio codice e dal fatto che viene eseguito su questa piattaforma quindi per esempio il mio salva black friday lo potrei proporre questo potrebbe essere eseguito e gli utenti potrebbero utilizzarlo fidandosi del fatto che verrà eseguito esattamente per come è scritto questo ovviamente sposta il trust da chi opera un servizio a che cosa descrive il servizio al codice che descrive esattamente quel servizio ora questo cambio di paradigma che cosa può comportare che cosa sta comportando beh lo sappiamo sta comportando lo sviluppo di prodotti e servizi finanziari che girano su blockchain vengono proposti a volte anche da gruppi di sviluppatori anche anonimi e che raccolgono che si possono proporre comunque agli utenti che li utilizzano in modo estremamente diffuso se vogliamo fare qualche esempio famoso uniswap è un exchange su cui gli utenti possono scambiare token di qualsiasi tipo esattamente come su un exchange di quelli centralizzati come Coinbase un altro esempio famoso è AVE money marketing in cui gli utenti possono prestare dei token a fronte di un interesse un altro esempio di exchange famoso è di YDX che proprio in questi giorni ha superato Coinbase in volume e a proposito di diciamo numeri ecco questi sono solo due esempi ma in realtà ci sono decine di applicazioni decentralizzate di questo tipo al momento il valore è quello che vedete quindi 185 billion di dollari di valore immobilizzato in queste applicazioni che cosa quindi che tipo di vantaggio abbiamo ne abbiamo diversi sicuramente l'approccio da parte degli utenti le barriere estremamente più basse sia all'ingresso che anche al cambio di servizio quindi se io sto utilizzando un exchange passare su un altro è estremamente semplice l'interconnessione fortissima tra queste piattaforme nel fintech noi ci auguriamo sempre che i servizi siano interoperabili che espongano le API ebbene qui tutte le applicazioni nativamente espongono delle API e quindi sono collegabili utilizzabili da altre applicazioni questo crea degli ecosistemi modulari estremamente complessi che possono portare a proprietà sia di maggiore resilienza o a volte anche di maggiore fragilità ma comunque con una crescita molto veloce nelle funzionalità la programmabilità è quindi un aspetto definitorio di questi asset questo potrebbe essere anche un punto di attenzione nella discussione del dibattito sulla definizione di CBDC devono anche queste essere programmabili oppure no ne avrei altro ma vedo lampeggiare il tempo scaduto quindi mi finisco grazie grazie Francesco per aver più o meno rispettato i tempi il tema che secondo me poni è interessantissimo è quanto di tutto quello che hai raccontato si concilia col tema della regolamentazione questo anche prima il commissario Ciocca l'ha ben evidenziato tutto questo ha una potenzialità ma nella regolamentazione dove si può entrare in che modo e in che modalità e questo probabilmente è tutto un tema aperto che invece potrebbe far sì che la regolamentazione possa addirittura attraverso queste tecnologie anche essere aiutata a controllare e avere più informazioni sul mercato allora Alessandro un attore come sia che comunque è un attore storico del mondo dei pagamenti che però ha iniziato a spendersi su delle nuove tecnologie molto innovative che di solito appunto sono associate a un mondo meno istituzionale ecco vuoi raccontarci attraverso anche tu qualche slide quello che state facendo per supportare gli istituti finanziari che vogliono giocare questa sfida sì Valeria prima di tutto ringrazio Consob e il Politecnico per avermi dato l'opportunità di raccontare questo use case che è molto concreto in sia c'è anche un'anima capital markets da cui è partita questa iniziativa con un background tecnologico di business importante che è il punto di partenza per queste tecnologie riprendo per parlare dello use case vorrei riprendere alcune parole chiavi della tavola rotonda precedente che ho trovato molto interessante che sono fanno da tre d'ugnonna quello che abbiamo fatto sono gli ingredienti la sperimentazione la digitalizzazione dell'intero processo Francesco parlava di programmabilità bisogna parlare di liquidità custodia e wallet e non ultimo consapevolezza che secondo me è un fattore chiave capire cosa vuol dire tokenizzare uno strumento finanziario e quali sono le regole del gioco noi ci siamo occupati di sviluppare una piattaforma per emettere bond per emettere bond non vuol dire per creare un surrogato rappresentante del bond ma per arrivare ad avere un token che fosse qualificato come un bond in questo momento la piattaforma è pronta ma stiamo aspettando come diceva prima il commissario Ciocca la definitiva normativa italiana per poterlo portare sul mercato perché ovviamente è un bond un token un bond un token che rappresenta un bond è uno strumento digitale nuovo con caratteristiche diverse anche se credo che alcune delle caratteristiche che in questi anni sono negli ultimi anni si sono basati i mercati di capitali quindi la protezione del consumatore il rispetto delle regole dell'antimony londering e quant'altro vadano comunque tenuta in considerazione questa slide solo per dire a chi non è all'interno del mondo del debit capital market che emettere un bond è un processo complesso che prevede molti step e molti attori ma la DLT gli smart contract le tecnologie a corredo della DLT non devono essere viste come qualcosa che deve per forza conquistare totalmente i capital markets e cambiare radicalmente ma secondo noi per le cose che stiamo portando avanti devono essere delle tecnologie a supporto che devono rendere i mercati più semplici più liquidi devono poter dare gli strumenti per creare anche nuovi modelli di business sono molto d'accordo con quello che è stato detto in una tavola precedente l'innovazione si fa su due versanti innovazione di processo e innovazione di business fare solo innovazione di processo vuol dire efficientarlo ma senza innovazione di business con nuove modalità non si troverebbe poi un vero e proprio riscontro sul mercato cosa abbiamo fatto abbiamo lavorato su alcuni dei processi di un'emissione di bond costruendo una piattaforma che attraverso la DLT facilitasse l'emissione del bond in quanto tale il settlement del bond e l'asset servicing come l'abbiamo fatto abbiamo costruito una piattaforma basata su una tecnologia che si chiama Ethereum in questo momento è all'interno di una rete privata ma stiamo lavorando proprio per il concetto di liquidità per aprire questo use case anche sulle reti pubbliche fondamentalmente mette a disposizione dell'operatore banca che può collocare il titolo potrà collocare il titolo una piattaforma che gli permetterà di fare quello che in gergo si chiama processo di book building che sfocia nella creazione di un token che viene distribuito agli investitori la distribuzione agli investitori avviene attraverso un processo di deliveries versus payment che è supportato da un altro pezzo della piattaforma che riteniamo molto importante ovvero la possibilità di avere il cash on chain ho sentito parlare anche di CDBC se volete è un po' un modo per strizzare all'occhio la CDBC perché uno dei veri benefici del miglioramento del processo per le securities è fare in modo che il delivery versus payment possa avvenire a un chain quindi attraverso una moneta elettronica rappresentata da un token o si spera in futuro attraverso la CDBC poter comprare e vendoli titoli con una garanzia una semplicità che oggi non si trova non ultimo un pezzo la piattaforma è dedicata al regolatore in questo momento il regolatore o un'entità terza potrà osservare quello che succede sulla piattaforma e verificarne il buon esito e semplificarne per esempio anche attività come il trade reporting per chi conosce la Mifid dammi solo ancora qualche secondo per dire che tutta questa innovazione deve però rispettare un mercato altamente regolamentato come la quella dei capitali per cui noi comunque siamo partiti da role and rules che esistono e devono da una parte cambiare ma dall'altra essere rispettate quindi alcuni concetti importanti prima ho seguito a parlare di custodia e wallet ecco su questo piano bisogna spiegare e capire cosa vuol dire la custodia e il wallet di un token per trovare il miglior connubio tra il garantire le controparti e sfruttare la tecnologia così come l'ownership chi è l'owner di un token messo sulla chain possiamo garantire che quel token appartiene legalmente all'investitore come ne possiamo trasferire la proprietà sul mercato secondario o se c'è un problema di pignoramento ad esempio quindi un'entità terza bene noi abbiamo esplorato tutti questi concetti e la piattaforma che abbiamo pronto li ha indirizzati forse non tutti ma qui entra la sperimentazione c'è bisogno di poter sperimentare sporcarsi le mani ho sentito parlare io credo che in questo momento si ha bisogno di andare avanti step per step e capire se effettivamente questo sia un modo migliore di fare le cose non solo perché ci sia una tecnologia attraente ma perché ci siano dei reali benefici grazie grazie Alessandro mi porto a casa due messaggi chiave che sono innanzitutto che queste tecnologie le posso applicare a più fasi di questo processo non significa necessariamente andare in un ambito solo di DeFi che sicuramente è molto affascinante molto interessante però forse è un po' disruptive in questo momento ci sono diversi step che ci possiamo portare a casa e questo è un punto chiave e fondamentale secondo punto sperimentare quindi questa è quasi una chiamata alle armi di dire ragazzi dobbiamo forse muoverci mettere un po' da parte tutti quelli che sono i dubbi e provare a capire che cosa realmente concretamente si può fare perché se non sperimentiamo non capiamo bene quali sono poi le potenzialità che possiamo attivare con queste tecnologie grazie Alessandro Marco penso che l'assist sia particolarmente interessante per una start up invece una realtà nuova che entra nel mercato e che deve un po' più sgomitare all'interno di un mercato per convincere e far capire le potenzialità di questa tecnologia ecco Marco vuoi raccontarci quello che avete fatto quello che state facendo nel mercato italiano e internazionale a te Marco grazie mille per la parola grazie di avermi invitato a questo importante interessante seminario sulla DLT e sulle possibilità che dà agli operatori finanziari diciamo agli incumbent un po' di svecchiarsi e di avvicinarsi a questo mercato e a questa tecnologia che molto promette io di background sono un avvocato ho lavorato molti anni nel campo della finanza strutturata e il mio portato la mia esperienza assieme a il mio mentore che è l'avvocato Gio partner strategici come sono SIA che è il nostro partner infrastrutturale tante discussioni con i regulator in particolare Banca d'Italia ci hanno portato a fare un design quanto più decentralizzato che possa aiutare in questo momento le banche nella gestione dei crediti un domani speriamo anche altri intermediari finanziari a porre in essere le operazioni che desiderano quello che abbiamo fatto fondamentalmente è costruire una piattaforma che si appoggia su diversi stack tecnologici il pilastro fondante chiaramente è la blockchain noi come proposta valoreale siamo partiti subito sulle reti permissionless facendo un grande lavoro di fine tuning per capire quali elementi negoziali quali elementi del workflow portare all'interno della blockchain in quanto vi erano noi abbiamo iniziato a lavorare nel 2018 vi erano chiaramente alcune aree regolamentari non chiare il mondo dell'incambient non era ancora pronto quando abbiamo iniziato a scrivere il codice altre invece ad esempio le abbiamo lasciate sul cloud per permettere un controllo più centralizzato e portarci a casa i benefici possibilmente di tutti i due mondi cioè quello della grande innovazione delle reti permissionless sulla blockchain e il controllo invece che possiamo avere su sistemi molto forti e innovativi come il cloud ma percepiti come più tradizionali ad esempio noi abbiamo iniziato a lavorare sul credito in quanto il credito dopo un attento lavoro di analisi giuridica si è rivelato l'asset più facile da portare immediatamente su un registro distribuito quanto io facevo finanza appunto il credito è un asset che di per sé può essere trasferito ad esempio con l'accordo negoziale delle parti non viene anche nel codice civile l'obbligo di prova per iscritto il che vuol dire che è un asset che allora io posso trasferire con una certa libertà all'interno anche delle procedure tradizionali quindi andare a costruire un sistema di trading di movimentazione di questi asset sulla blockchain dava molto valore e molto vantaggio agli operatori finanziari tradizionali in quanto non esiste oggi un registro del credito condiviso non esiste un marketplace unico come ad esempio può essere la Borsa Italiana per le azioni quotate nel quale andare a negoziare questo tipo di asset d'altra parte negli anni soprattutto dopo il crollo di Lehman Brothers e tutte le ondate di quell'altro tsunami che è stata la crisi economica del 2008 abbiamo visto tutti i problemi che avevano le banche a liquidare questo tipo di asset soprattutto quando diventano non performing per questo abbiamo inserito nel workflow alcuni punti che vengono dall'esperienza diretta che abbiamo avuto con le banche nel contesto delle grandi operazioni di cartolarizzazione che ci sono state tra il 2013 e il 2018 ad esempio uno degli elementi secondo me più significativi che può dare la blockchain nel campo dell'intermediazione finanziaria è la portabilità e la certificazione del dato sul credito è una cosa che accade spesso credito viene erogato succedono una serie di accadimenti finché non diventano un performing ci sono comunicazioni ristrutturazioni alcune comunicazioni con Banca d'Italia si mette all'interno di una data room si vende il credito se io voglio rivendere il credito riaprirò una data room rifarò data collection e continuerò a ripetere dei processi che diventano ridondanti e non coerenti continuando invece anzi iniziando a lavorare sul registro distribuito possiamo arricchire il token che a questo punto rappresenta l'asset e anche la proprietà dello stesso con tanti accadimenti che andiamo a certificare durante la vita durante il life cycle del credito stesso dando così la possibilità all'acquirente ad esempio di movimentare lo stesso asset sul secondario non dovendo ripetere i lavori di due diligence che sono stati fatti a monte magari anche 5-10 anni prima il secondo livello di complessità può essere invece rappresentato dagli smart contact che ci permettono la certificazione del passaggio di proprietà o qualora intermediario finanziario lo volessero implementare delle logiche anche revolving poter avere un portafoglio che viene gestito ad esempio nel contesto non lo so di un'obbligazione bancaria garantita che va a chiamare dei crediti dalla banca qualora il plafond di garanzia sia troppo basso e questo viene garantito da un set di smart contact che ne certifica il valore ultimo elemento interessante è la tecnologia può essere facilmente adattata a tanti ambiti di business diversi sempre tenendo in conto chiaramente dei vincoli regolamentari e andando a studiare per ogni asset class qual è il processo di onboarding sulla blockchain perché a seconda dell'asset sono necessarie delle attività preparatorie e degli smart contact ad hoc che ne rispecchino un po' la natura per rispettare appunto regolamentazione e darne poi liquidità sul primario e sul secondario grazie grazie Marco è sicuramente interessante sarebbe bello poter approfondire ma non abbiamo tempo ti faccio poi qualche domanda Alessandro torno un attimo da te per chiederti hai dato una chiamata forte alle armi muoviamoci come sistema come istituzione finanziaria attivatevi ecco quali sono secondo te gli elementi che frenano la normativa quanto centra la regolamentazione quanto centra e quanto invece è una scusa alla sperimentazione no credo che in questo momento la normativa sia il punto di partenza avere chiaro quali sono le regole del gioco e cosa si può fare è il punto di partenza l'altra parte mi sento di dire non è il momento di competere ma è il momento di cooperare le varie sperimentazioni che andranno a farsi devono essere anche un momento dove pubblicare i risultati per capire ciò che si è ottenuto e se quello che si è ottenuto è il percorso corretto perché queste tecnologie non ricordiamolo sono molto nuove a discapito del fatto che bitcoin comincia da tempo ma noi stiamo parlando di tecnologie di LTI a supporto di strumenti finanziari e ancora stanno crescendo per cui è importante fare ecosistema grazie grazie Alessandro anche della rapidità con cui hai dato la risposta Marco a te una domanda una provocazione che è legata alla scelta delle tecnologie alla base avete scelto le permissionless che forse per definizione sono quelle meno regolamentali in cui la regolamentazione è un po' più difficile perché per definizione non hanno bisogno di avere qualcuno che le autorizza ecco questo è un'opportunità qual è la vostra scelta e come vedi il futuro delle permissionless proprio per questi progetti secondo me le permissionless oggi sono permissionless e permissioned questo poi è il punto di vista della mia azienda e anche il mio punto di vista personale sono un po' la differenza tra internet e le LAN negli anni 90 cioè la vera innovazione oggi è sulle permissionless ma infatti vediamo il commitment sul codice di Ethereum ci sono centinaia di migliaia di programmatori che vanno a continuare a modificare a migliorare il codice perché vedono del grande valore all'interno di questo spazio che è diventato uno spazio di libertà e di grande autonomia negoziale questo qua è un po' il mio portato da avvocato la scelta di andare sulle permissionless deriva da tanti punti e da tanti valori che noi abbiamo visto soprattutto su Ethereum in questo momento che partono da una riflessione come si iniziava questo dibattito l'infosfera è un mondo nuovo complicato che pone dei problemi suoi propri abbiamo visto da quando si sono diffusi social ad esempio che gli agency problem non lo so di Facebook o di altre istituzioni del genere sono molto grandi i leak di dati verso Cambridge Analytica li ricordiamo tutti anche il pericolo degli stessi quindi la centralizzazione dei processi informativi all'interno della finanza è un problema ricordo ad esempio due accadimenti molto spiacevoli negli ultimi 12 mesi JP Morgan multa da 920 milioni di dollari per spoofing sul trading dell'argento in quanto loro andavano a prendere gli ordini dei clienti poi facevano trading in quanto questi ordini in quanto riuscivano ad intermediare questo processo oppure l'alt del trading sulle shares di GameStop senza entrare nella qualità di quel prodotto finanziario fatto da Robin Hood contro i suoi propri utenti per tutelare un cliente grande che invece li pagava che era un fondo sotto Citadel quindi abbiamo deciso ad esempio di non essere noi gli agent delle banche perché le banche ovviamente sono molto più sicure di quanto può essere Whiskey noi siamo una start up quindi abbiamo costruito un sistema all'interno del quale la banca si costruisce il suo marketplace e controlla le wallet che possono avere accesso utilizzando però le certificazioni sulla blockchain per dare trasparenza alle proprie controparti di quello che sta facendo automatizzare ad esempio una serie di processi di settlement e chiarificare quando gli asset passano da una parte all'altra e infine anche la possibilità di combinare dei protocolli preesistenti a Whiskey di utilizzarli al loro interno noi ad esempio utilizziamo dei token che si chiamano RC721 721 sono i famosi NFT di cui adesso tanto si parla nel mondo dell'arte e noi abbiamo potuto prendere a piene mani da codici già ampiamente testati ampliarli e rimetterli in circolazione a favore di tutta la community per continuare in questa opera di sviluppo condiviso che forse un po' anche quello che diceva Alessandro che è la cooperazione secondo me che possiamo avere a livello di codice anche non solo a livello di corporate e regolamentare all'interno di questo spazio tecnologico grazie il tema della cooperazione è un tema fondamentale Alessandro volevi aggiungere qualcosa volevo aggiungere una cosa seppur noi siamo partiti da una rete privata prima ho citato come parola chiave la liquidità che non si può trovare sulla rete privata noi crediamo per esempio a una combinazione delle reti pubbliche e delle reti private quello che è il concetto delle side chain noi aspichiamo a delle side chain quindi reti private dove gli intermediari si sentono più sicuri ma all'uso della rete pubblica per distribuire il bond in quanto tale quindi creare liquidità quindi quello che diceva prima il dottor Mossa cercare un pubblico più ampio dove andare a trarre capitali beh questa è una visione sicuramente anche molto interessante anche perché poi bisogna fare passo passo il tema poi dell'interoperabilità è centrale perché poi bisognerà far sì che queste side chain siano interoperabili e creino ancora più quell'ecosistema Pierangelo forse lascerei a te la parola perché ho visto arrivare un po' di domande quindi vale la pena interpellare i nostri relatori si stanno arrivando domande dunque direi una per Francesco Bruschi che ci ha fatto vedere un sistema in cui l'utente si deve fidare del software e allora dice come fa a verificare l'utente che il programma sia stato effettivamente scritto con le finalità descritte può chiedere a me che no a parte scherzi ovviamente l'analisi del codice la capacità di capire se un certo codice persegue certe finalità e avrà alcuni effetti non ne avrà altri indesiderati è una capacità tecnica in realtà questo è un problema che troviamo in tutto il software io scrivo un software anche non finanziario mi chiedo questo software farà quello che voglio che faccia avrà dei bug come li chiamiamo ovviamente l'utente finale non deve essere non gli si richiede di essere un esperto un ingegnere software quello che si può immaginare è che ci saranno dei corpi intermedi in qualche modo che analizzeranno il codice che verificano che il codice scritto effettivamente abbia delle caratteristiche di qualità e condividono questa informazione con gli utenti allo stesso modo in cui noi oggi per esempio ci fidiamo del software che controlla delle funzioni vitali della nostra automobile quindi io ho un ABS ho un drive by wire sono sicuro che il software che controlla queste funzionalità non mi metterà in pericolo come posso fidarmi oggi questo è un po' complicato perché questo software è chiuso immaginiamo che questo software sia aperto e che quindi chiunque possa ispezionarlo allora io non devo avere le capacità tecniche personalmente ma posso fidarmi dell'ispezione che viene fatta da ricercatori per esempio associazioni consumatori perché no da istituzioni di controllo che possiamo immaginare che sviluppino queste capacità e che quindi le mettano al servizio della sicurezza di questi prodotti quindi ci sono tante soluzioni possiamo vedere quello che succede nel campo del software in particolare del software in open source d'altra parte l'economist aveva parlato di trust machine esatto dobbiamo sostituire la fiducia ad Alessandro Roveda c'è una domanda assolutamente interessante lui ha illustrato la piattaforma per bond diceva c'è un ascoltatore che chiede se è possibile ipotizzare il passaggio all'equity all'azionario dal punto di vista tecnico assolutamente sì il passaggio non è particolarmente oneroso là dove si parla di issuing la piattaforma è stata progettata ho visto un'altra domanda così rispondo su tecnologia ethereum attraverso uno smart contract che è l'ERC 1400 sta diventando di fatto uno standard di mercato per il mondo securities per cui si può facilmente adottare la piattaforma anche per l'equity al netto poi dei temi normativi quindi rimane questo sfondo ovviamente rilevante della normativa dunque Marco Pagani c'è una domanda che forse era per te visto che hai illustrato appunto la piattaforma per il credito i token potranno essere riconosciuti come collateral in operazioni di finanziamento allora quello che noi siamo partiti d'etherium perché vogliamo accedere ai pool di liquidità di piattaforme DeFi come quella di MakerDAO ad esempio su MakerDAO abbiamo avuto già l'autorizzazione da parte della community un anno fa non ci siamo mossi in quel senso perché la regolamentazione non è pronta non avevamo ancora visto una versione sufficientemente evoluta della normativa Micar sì quello che vorremmo fare ad esempio soprattutto per le imprese passando dal credito bancario alla fattura che è un credito vorrebbe essere quello di poter fare utilizzare questi asset tokenizzati quali collateral in pool di liquidità su protocolli di finanza decentralizzata infatti la piattaforma nostra si chiama DEFINE che è un termine molto generico per dire Decentralized Finance Network questa è proprio la finalità che stiamo facendo però a step adesso oggi ci occupiamo del trading settlement negoziazioni costruzioni di portafogli domani vorremmo poter dare al sistema paese accessi a fonte di liquidità alternativa qualora anzi a complemento di quelle del sistema bancario grazie grazie perché appunto apre un mondo che dalle vostre parole sta apriando le prospettive sta aprendo prospettive completamente nuove volevo tornare a Francesco con una domanda che deriva dalla sessione precedente sul problema dell'oracolo come poter evitare che si formino forme di monopolio o di manipolazione dell'informazione ricordiamo il problema degli oracoli è questo io ho del codice che gira e che rappresenta un servizio però questo codice questo smart contract questo servizio ha bisogno di informazione sul mondo esterno alla blockchain per esempio qual è il prezzo del bitcoin rispetto al dollaro come facciamo a accedere a questa informazione in modo più semplice è quello che qualcuno questa informazione ce la metta ovviamente questa configurazione può portare a delle posizioni di privilegio se sono io che dico allo smart contract quanto vale un bitcoin o un ether in questo momento posso barare allora qui c'è tutto un ampio spettro di soluzioni estremamente interessanti che decentralizzano questo compito alcune sono veramente quasi fantascientifiche nel distribuire su una serie di attori il compito di riportare delle informazioni dal mondo esterno nella blockchain e vincolando gli attori a dire effettivamente la verità attraverso gli incentivi economici altre soluzioni invece prevedono banalmente diciamo la decentralizzazione la distribuzione su più attori quindi invece di chiedere soltanto a una fonte quanto vale io distribuisco questa domanda sotto una serie di attori che attenzione possono essere disincentivati a mentire quindi se becco uno di questi a mentire posso in qualche modo punirlo economicamente questo è uno dei problemi sicuramente più all'attenzione delle applicazioni decentralizzate ma abbiamo moltissime soluzioni tecniche che sono interessanti che sono prometteti abbiamo anche dedicato un intero workshop dell'osservatorio proprio a queste soluzioni quindi direi che in questo senso c'è speranza di non vedere forme di riconcentrazione nelle mani di chi fornisce l'informazione ecco io continuo con Marco Alessandro perché c'è ovviamente grande interesse sulle applicazioni allora Marco da un punto di vista strettamente legale in caso di contenzioso il cessionario cosa può presentare come prove in giudizio in caso di contestazione e che succede una volta che il credito è soddisfatto allora in merito alla prima domanda non esistendo oggi appunto una disciplina sui crediti tokenizzati io mi rifarei alle discipline civilistiche allora possiamo avere due tipi di contestazione una è relativamente all'accordo tra le parti ovviamente io posso andare a portare il token e tutto quello che è successo sulla blockchain come elemento fattuale per andare a dire guarda che Alessandro mi ha venduto un credito nel mondo del credito poi però ad esempio l'efficacia l'opponibilità della cessione verso terzi in realtà è data dalla notifica al debitore ceduto cioè io non solo devo oggi andare a cedere il token ma come accade nelle cessioni diciamo tradizionali poi devo andare a notificare il debitore ceduto e se ci sono due acquerenti diversi l'acquerente che ha ragione tra virgolette verso il debitore ceduto e chi per primo ha fatto la notifica il secondo problema attiene diciamo alle occorrenze al life cycle del credito allora noi quello che abbiamo fatto appunto è collegare una data room mobile ad un token questo per noi è l'asset digitale quando io vendo l'asset vendo la data room la data room viene arricchita con tutti gli eventi inerenti al credito questo vuol dire che quando io vado a comprare un credito vedo il documentale i pagamenti che sono avvenuti e controllo il piano di ammortamento che sono stati appunto notarizzati in un momento precedente sulla blockchain sarà a me acquerente nell'ambito della due diligence che vado a fare quando compro un asset finanziario andare a verificare quali sono stati gli ultimi pagamenti effettuati qualora chiaramente qual è il problema questo è il problema dell'oracolo cioè io sto vendendo un asset che ho arricchito con determinate informazioni gli ho la prova per sempre di quello che mi è stato detto da parte del cedente a questo punto qualora le informazioni predisposte dal cedente prima del settlement dell'operazione siano sbagliate o non complete avrò un ground molto forte e fattuale per andare a chiedergli un risarcimento o fare un'azione per danni grazie ad Alessandro girare questa domanda sull'efficacia in termini di tempi quanto lo scambio in DLT può impattare sul settlement dei titoli finanziari questo è molto interessante ed è uno dei cuori dello use case che abbiamo sviluppato per fare questo la cosa basilare è avere il cash on chain avendo il cash on chain si possono applicare quei meccanismi di delivery versus pain fatti dagli smart contract che possono garantire con la massima efficacia lo scambio di bond e euro digitali passatemi il termine è in tempo reale quindi nel momento in cui si decide di far avvenire lo scambio questo avviene in tempo reale non c'è più un tempo di settlement da mettere a disposizione per fare rinconciliazione bene io sto arrivando alla fine un'ultima domanda per Francesco cioè chi dice uniswop è sotto indagine della SEC allora quanto potrà impattare i tempi della regolamentazione sulle prospettive di DeFi beh questo diciamo lo vedremo dal punto di vista tecnico sarà veramente interessante vedere in che modo la decentralizzazione di un'applicazione può essere in qualche modo condizionata da eventi che sono esterni dal punto di vista strettamente tecnico nel momento in cui ci fossero delle conseguenze cogenti quindi delle decisioni cogenti da parte di un'autorità in che modo una piattaforma decentralizzata può recepirle noi sappiamo che uniswop una delle caratteristiche interessanti è che ha una governance decentralizzata quindi per esempio le proposte di cambiamento nel funzionamento della piattaforma vengono proposte ai possessori di un certo token che possono essere chiunque possiamo ma può essere chiunque di noi e sottoposte a votazione valutazione nel caso in cui questa votazione passi la piattaforma viene aggiornata il comportamento viene modificato nel momento in cui ci fosse una ingiunzione in qualche misura di modifica del comportamento della piattaforma credo che sarebbe estremamente interessante vedere in che modo tecnicamente questo andrebbe a essere recepito dal sistema della governance di uniswop è molto difficile immaginare come questa cosa potrebbe andare a finire se succederà siamo tutti curiosi con gli occhi aperti e quindi vedremo vedremo che cosa succederà grazie Francesco che ha dimestichezza con il timer che non è decentralizzato ma è come rispettato i tempi quindi io passo la parola a Valeria per la chiusura di questa tavola allora vi ringrazio io credo che abbiamo ricevuto tanti messaggi importanti soprattutto perché stiamo lavorando proprio alla frontiera dell'innovazione e i casi che ci hanno portato che ci hanno portato Alessandro e Marco ci raccontano come tutto questo non sia qualcosa di lontano ma sia molto concreto Francesco ci ha un po' fatto sognare su quello che potrà essere il futuro chiedendoci anche quali sono le opportunità ecco è un futuro che può essere costruito e il messaggio di costruirlo come ecosistema è fondamentale chiedo ai relatori di spostarsi così nel frattempo arriva anche il commissario Ciocca per la chiusura io finisco ancora di dire due parole su quelli che sono i messaggi chiave che ci siamo portati a casa quindi da un lato una prima tavola che ci ha fatto un po' volare in alto per capire quelle che sono le opportunità di queste tecnologie è una seconda tavola che ci ha fatto vedere attraverso gli esempi concreti quello che effettivamente possiamo fare non dopo domani ma già ma già adesso è importante che l'Italia non perda questo treno le competenze ci sono questi seminari hanno proprio l'obiettivo di diffondere correttamente le giuste competenze su questi temi dobbiamo farlo come ecosistema complessivo e dobbiamo farlo anche rispetto della regolamentazione verifico che siamo a posto qua dietro e quindi lascio la parola al commissario Ciocca per chiudere i lavori grazie a tutti per l'attenzione grazie Valeria veramente due pensieri di chiusura insieme con ringraziamento al Politecnico alla Consob e ai relatori che oggi si sono alternati il primo è un punto metodologico c'è fame di conoscenza questo è abbastanza chiaro anche delle domande che si sono alternate e a cui abbiamo dato risposta nei limiti del possibile ma il mio punto è seguiranno altre cinque occasioni in cui chiaramente entreremo verticalmente su molte delle cose che sono state sollevate quindi abbiate pazienza perché arriveremo verticalmente sulle altre spero che riusciremo ad essere all'altezza della domanda di conoscenza lo faremo con il ritmo di oggi quindi siamo abbastanza in orario certamente non sarò io quello che vuole andare fuori fuori tempo però con questo ritmo di come diceva Valeria alto e poi in concreto vado su alcune cose dall'alto in concreto beh un punto che volevo riprendere che Stefano Caselli ha sollevato era il punto della come dire del blurring dello sfarinamento del confine tra equity e debito questa che sembra una cosa teorica invece è un punto fondamentale perché nel momento in cui io posso finanziare attraverso token iniziative che quindi non sono né partecipazione in una società né un debito in senso proprio un'obbligazione in senso proprio chiedo scusa ecco in quel confine si apre tutto un mondo di ovviamente opportunità ma una sfida molto importante dal punto di vista dell'informazione che va data rispetto a quella a quell'iniziativa cioè su quali basi partecipa l'investitore dovrà avere informativa al momento della come si dice dell'emissione un'informazione nel continuo che sarà diciamo così che sarà quello su cui poi si muove la negoziazione su un mercato secondario quindi questa è la vera sfida che poi ci attende nel momento in cui parte il mercato reale secondo punto quando si dice mercato reale sono state richiamate alcuni punti per esempio sull'andare mainstream cioè alla scala del mercato per esempio nel settlement allora questo è il vero salto in cui noi stiamo entrando un conto è andare a cercare il token un altro conto è il momento dell'offerta mainstream di nuovo questo è il salto che avverrà nel momento in cui il mercato sarà comune a livello continentale livello continentale terzo punto che richiama la competizione di sistema oggi sostanzialmente abbiamo detto cooperazione all'interno dell'ecosistema nazionale competizione del sistema nazionale rispetto agli altri c'è sicuramente un punto regolatorio quindi vanno chiusi gli aspetti di regolazione che mancano c'è però anche un'opportunità di organizzazione appunto di quelle infrastrutture leggere che poi sono la chiave però di questa catena ultimi due punti uno è stato sollevato alla questione del rischio cyber allora noi non abbiamo previsto nelle cinque verticalizzazioni che seguiranno una sul cyber mi verrebbe da dire vediamo come prosegue la discussione potremmo aggiungerne una sesta non lo decidiamo adesso lo decidiamo in corsa chiaro che il problema c'è perché anche dal punto di vista della vulnerabilità cyber la catena decentrata pone dei problemi completamente differenti quindi sulla sicurezza che deve arrivare nel caso in cui sia decentrata anche il possesso del token a livello del singolo device con tutta una serie di problemi che diciamo così sono ovviamente di sistema ma sono poi anche tecnici ma anche di regolamentazione vediamo dove siamo e discuteremo poi se magari fare un approfondimento ad hoc ultimo ed è un punto veramente questo ovviamente è per l'autorità di regolazione ma non solo questo nuovo mondo come già stiamo vedendo per esempio nel mondo della sempre nella finanza e nella andare in mainstream sulla parte di sostenibilità porta con sé una domanda di enforcement ad una scala differente questo è un problema che dobbiamo diciamo così affrontare e regolare e mi viene a dire per una comunità che nasce che già è attiva da tempo però attenzione che nell'andare mainstream ovviamente altrettanto mainstream sarà e dovrà essere anche l'enforcement probabilmente l'enforcement in questo contesto prenderà anche forme e anche modalità o comunque domanda di enforcement diversa da quella che vediamo oggi in termini di rapidità di effetti reali e anche di conoscenza e conoscibilità dell'enforcement questi sono punti che dovremo affrontare anche come autorità ma sono il vero punto di diciamo così di garanzia di un sistema che comunque è un sistema che si diciamo così un mondo che punta alla raccolta di risparmio da parte di investitori che nel momento in cui investono devono essere messi nella possibilità e nella capacità di comprendere in cosa investono secondo la loro diciamo così appetito al rischio e nella capacità poi di come si ricordava stamattina di poter liquidare l'investimento in un in modalità in un in un mercato secondario che è la vera difesa reale poi di un investimento di questo tipo con queste ultime parole voglio veramente ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo evento e darvi appuntamento a questo punto al 5 novembre per la prossima per la prossima appuntamento grazie grazie a tutti